La regione Campania fa incetta di vessilli blu con 19 bandiere blu assegnate a Vicoequenze, Piano di Sorrento, Sorrento, Massalubrenze, Anacapri, Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Monte Corice, San Mauro, Cilento, Pollica, Casalvelino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati, Sapri, la Campania. Si conferma la prima regione del sud per il mare pulito e sale al secondo posto assoluto in Italia. Un grande risultato ottenuto anche grazie al piano per la depurazione delle acque avviato dalla regione sull'intero litorale della Campania. Quest'anno a ricevere l'ambito riconoscimento è anche il comune costiero di Camerota che da diversi anni mancava. È un giorno meraviglioso per Camerota, dice Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota. Ascoltare i massimi vertici della FEE e pronunciare il nome della nostra località tra le 200 italiane che hanno ottenuto il riconoscimento è una sensazione unica. Abbiamo inaugurato tre impianti di depurazione in un anno ed era il tassello che ci mancava. Bandiera blu è un sigillo di garanzia della qualità del nostro mare e delle nostre spiagge, ma è anche il giusto premio al lavoro che si sta portando avanti. Le spiagge di Camerota non hanno barriere architettoniche e la percentuale di raccolta differenziata è a livelli molto alti. Il progetto di educazione ambientale nelle scuole prosegue a gonfie vele. Un grazie all'amministrazione comunale, tutta, agli imprenditori, agli operatori del mare, ai lavoratori che tengono a cuore le sorti del nostro territorio, alla scuola, alle forze dell'ordine, di polizia e a tutti quelli che si impegnano in prima linea per difendere le bellezze di Camerota. Siamo felicissimi di comunicarvi questo splendido riconoscimento che Camerota aspettava da molti anni, aggiunge Teresa Esposito, assessore al turismo. Requisito fondamentale per l'assegnazione è il depuratore che fino all'anno scorso non c'era e per cui non è stato possibile ricevere il vessillo della FEE. Questa amministrazione, soprattutto il sindaco Testardo e Caparbio, ha portato a compimento questo grande progetto grazie al quale abbiamo l'onore di annoverarci tra le località italiane. Bandiera Blu. Al riconoscimento della FEE abbiamo candidato le spiagge Marina delle Barche, Lentiscelle e la spiaggia del Troncone. Considerate la peculiarità del territorio e i servizi offerti delle strutture balneari. Ora, in sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid, in vigore possiamo dare il via alla stagione estiva. Vi aspettiamo tutti sulle splendide spiagge di Camerota, bagnate dal nostro mare blu.